ah ah bella lì bestiasa beh mettilo per terra adesso te lo tiriamo via ah guarda dove sei messo c'è lo slamatore tanto questi possono starci una vita fuori dall'acqua dai slamiamolo e per buttarlo dentro come cazzo facciamo forse si riesce aspetta posso provare un attimo vai mi fai provare un po' ma con la tua aspetta non riesco a infilarlo sto cazzo di cosa ma com'è aspetta 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 che lo prendo con qualcosa boh già fa aspetta che non riesco a infilarlo aspetta che non riesco a infilarlo